Cari figli, sono con voi con la benedizione di mio figlio, con voi che mi amate e che cercate di seguirmi. Io desidero essere anche con voi che non mi accogliete. A tutti voi apro il mio cuore pieno d'amore e vi benedico con le mie mani materne. Sono una madre che vi capisce, ho vissuto la vostra vita e ho provato le vostre sofferenze e gioie. Voi che vivete il dolore comprendete il mio dolore e la mia sofferenza per quei miei figli che non permettono che la luce di mio figlio li illumini, per quei miei figli che vivono nelle tenebre. Per questo ho bisogno di voi, di voi che siete stati illuminati dalla luce e che avete compreso la verità. Vi invito ad adorare mio figlio affinché la vostra anima cresca e raggiunga una vera spiritualità. Apostoli miei, allora potrete aiutarmi. Aiutare me significa pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di mio figlio. Pregando per loro voi mostrate a mio figlio che lo amate e lo seguite. Mio figlio mi ha promesso che il male non vincerà mai perché qui ci siete voi, anime dei giusti. Voi che cercate di dire le vostre preghiere col cuore. Voi che offrite i vostri dolori e sofferenze a mio figlio. Voi che comprendete che la vita è soltanto un battito di ciglia. Voi che anelate al regno dei cieli. Tutto ciò vi rende miei apostoli e vi conduce al trionfo del mio cuore. Perciò figli miei purificate i vostri cuori e adorate mio figlio. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.